Adriano, dobbiamo incidere, ma incidiamo questa o no? No, 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 incidiamo il pezzo. In sala con Adriano, è un divertimento unico. Entrano Claudia e Adriano, Adriano comincia a ballare. Fio, dico, dimmi Adriano, togli il click. Dico, ma l'ho già tolto. Toglilo ancora, va là. Questo è meraviglioso. Claudia, ti ricordi quando ci sgridasti che mangiavamo il salame? Me ne vado, me ne vado, scusi mi chiami un taxi. Adriano dice, Claudia, dimmi, vai piano col taxi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.